Abbiamo i cibi, se volete contrarli, va bene. Io sono qui e i cibi sono qui. Allora, questa canzone è scritta da Bob Dylan e abbiamo registrato questa canzone al nostro primo cibi, senza che lo don't take the time. Questa canzone è Tonight I'll Be Saving With You. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie.